60 Seconds del giovedì pomeriggio. Cari amici, io credo fermamente che il dovere di chi faccia il giornalista, di chi utilizza i social anche per, per carità, parlare della propria vita, dei momenti belli, eccetera, ma anche per delle riflessioni sull'attualità, su ciò che ci circonda, non spegnere mai i riflettori sulla vicenda della piccola Kate. Bambina di cui non sappiamo più nulla da oltre un mese. Chiunque abbia una conoscenza anche superficiale di casi di cronaca, in particolar modo di sparizione in generale di minori, in modo particolare, sa che un mese, in realtà 33, 34, 35 giorni, è un tempo infinito, orribilmente infinito, ho avuto modo di dire, parlandone in televisione, l'altra mattina. Perché dobbiamo tenere accessi i riflettori? Nella speranza ovviamente di avere notizie, ma anche perché non possiamo dimenticare che questo non è un caso venuto fuori dal nulla, o lo scopriremo, mi auguro, dalla follia di qualcuno, qualche soggetto disturbato, con interessi criminali ben definiti. Tutto nasce in un humus illegale che era noto, l'occupazione di questo ex albergo, si chiamava Astor di Firenze, che era noto a tutti. Infatti è vero che il Comune aveva firmato, emanato l'ordinanza di sgombero, poi non si era sgomberato perché è dove li mandiamo. E così si tollera di fatto una situazione indecente, come quella dell'ex hotel Astor, in Italia ne abbiamo decine e ne parleremo ben presto anche sulla ragione, perché è qualcosa che ci colpisce, ci ferisce come cittadini, prima ancora che come giornalisti. E in quel mondo assurdo e ovviamente intriso di illegalità e violenza, situazioni come queste possono generarsi, a margine di prostituzione, droga, spaccio, per non parlare di ipotesi persino peggiori. Ma soprattutto abbiamo il dovere di tenere i riflettori non accesi, accesissimi sui 10, 100, non so quanti siano altri ex hotel Astor che sono sparsi in tutta Italia. Tollerarlo, sia pure indirettamente, è una colpa di tutti noi.